residenti preoccupati sulle condizioni della balconata orientale di vasto nevicate e temporali delle scorse settimane hanno messo a dura prova la stabilità di una parte della loggia ambling già monitorata negli anni scorsi e il piazzale vicino alla cappella votiva della madonna della catena a destare le maggiori preoccupazioni si nota infatti un ulteriore abbassamento del piano di calpestio e i residenti hanno paura del rischio che scivoli ancora alcuni hanno anche delle crepe in casa e in tanto è uno spettacolo indecente se ci si affaccia dalla loggia ambling la suggestiva passeggiata da cui la città alta si affaccia sul golfo decine di sacchetti di plastica scagliati dal muro delle lame nella scarpata sottostante e non solo mani ignote si sono divertiti anche a lanciarli sugli alberi scene simili si erano registrati la scorsa estate a vasto marina tra via spalato via puccini e via martiri striani nelle settimane immediatamente successive all'avvio della raccolta differenziata nella località balneare bello Grazie.